e se vede sono ormai max ma dove la facciamo più in stanza? no lo sto registrando ah lo sto registrando non devi dire saluto tutti i miei fan saluto tutti i miei fan ciao mamma ciao papà vado a prendere il cosa da recensione è l'oggetto della recensione è sempre in stereo 3, 2, 1 che figura di merda azione sembra illuminato da dio e lo so paro Tony Channel quando fai i video suoi con quel faro paro Tony Swap particolare sulla Roma terapia sono le ore 23 passate quindi non so se ancora è il giorno di giorno oppure il giorno 20 chi lo sa ma se sono le 23 e 35 allora è il 19 ok oggi è il 29 maggio 2018 e siccome ci siamo rotti le palle di fare i video sullo Swap abbiamo cambiato completamente post 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 alle 23 e 35 35 39 che cazzo quello che cazzo mi pare non dire le parolacce non dire le parolacce se no chiamo la polizia cazzo porca puttana è un family friendly questo video yes assolutamente pubblicità pubblicità hai problemi di capelli cazzo tu a te vieni quelli chiedevo giustamente uno alle 23 30 alle 23 ormai sono alle 24 e 40 uno dove va? a panculo va a mcdonald mi pare giusto dopo 10 ore le piera ragazzi adesso fatemi fare il rompipalle della situazione ma bisogna presentarsi quindi come si fa quando si presenta ci si presenta in un video non si si presenta a se stessi ma uno presenta all'altro e così dice quindi io presento federica alias boss lady vapor te fai di cazzi tu alias boss lady vapor che chi non la conosce è babbo di minchia lui è mister nino tatà trattino boss tmt ed io in compagnia ma che poi scusa io c'ho una domanda da sempre ma perché vabbè il trattino basso ma la cosa c'è è che noi abbiamo le risate senza gli effetti sonori di sottofondo ma le risate originali della gente che sta vicino a noi il tatà va bene anche ma perché ti richiama come una dinamite perché è una bomba atomica è proprio quello perché quando io svavo è come un'espluzione quando lui svavo questo sei mangiato i fili della playstation prima di iniziare a fare i video su youtube o sei fumato il robo tnt tatà tnt tatà sono in compagnia di martin rape sono in compagnia di martin rape ed in questa serata scalda ma non troppo di verona andiamo a decensire un prodotto nuovo ma non troppo un gelato un gelato fresco composto non scomposto senza nicotina base 50 giorni 50 giorni 50 giorni ciao a mai dire svapo ciao a mai dire svapo siamo tornati di nuovo se un gelato vuoi mangiare dammi che tona devi andare ma questo che cazzo si è fumato stasera fai il tevolo giù no tutta naturale tutta naturale portarci sua quello tu chi ti è finuta perché dovevo guidare non lo sa più male ti rallenti differenti di tutto ciò vero? ciao ragazzi io ero bossa vivente ma sono noti che ho fatto sta figura ma sono una che sfuta quanto a te ragazzi aiuto questo non è ragazzi allora recensione perché no momento serietà oggi andiamo a recensire visto che ci siamo cagati le palle dei soliti gusti al gelato andiamo a recensire proprio un gelato che è il McFlurry un vortice di gelato bellissimo packaging da una cappella dimensione disneyland la dimensione è più o meno buona sarà un 69 64 stiamo girando l'uomo ciao valentina e troviamo una pastella piena pubblicità il gelato è composto il gelato è composto dal gelato alla vaniglia se non mi sbaglio con i ciocomix e smarties si chiamano ciocomix mortacci tu si chiamano smarties in tutta italia ciocomix dove cazzo mi stai vedai lo scontrino è cala oggi ciocomix si chiamano ciocomix oh ragazzi queste che cazzo so ciocomix o smarties è caldo me su smarties vabbè andiamo alla prova di andiamo alla prova di andiamo alla prova dell'impostativa ma no la parte importante ti devi descrivere perché flurry flurry perché è tipo un vortice loro prendono questo gelato ok mettono no me prego dai dai che schifo ma no cioè ok io vorrei invitare i recensori matti di guardare la confezione invece di inflare dalle torbici questo cucchiaino è lavorato al meglio lo so ok in tutto ciò stiamo facendo la recensione di un prodotto senza nicotina non mi spieghi perché il cucchiaino è fatto così no perché è lavorato al mercato perché va inserito dentro sta macchina e sta macchina crea il flurry sai che quando faccio così vabbè no mi fermo ma va nasale e volevi guarda che faccia guarda che faccia perché io ti conosco a te perché io ti conosco a te sì sì te lo ho detto che ti conosco tutto questo stiamo spavendo dentro il McDonald's che non si potrebbe è buono è cremoso è un cremoso freschissimo ragazzi comunque oggi ci stanno aspettando davvero detto questo vabbè ah raga a sputare abbiamo sputato abbiamo bestemmato abbiamo bestemmato dopo facciamo la recensione della birra se non mi dimentico troverete tutti i loro canali tutte le cose qua sotto e non ci seguirà nessuno con l'ultima svapata illegale al McDonald's è cheso dal vostro lama con i capelli su e la cosa suena hra 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 scuridu papa e la cosa suena